Il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta in Contrada Piannellagua è da ampliare e ristrutturare. Per questo è partita la gara d'appalto per i lavori di adeguamento che ha come termine di scadenza delle offerte il prossimo 7 luglio. La procedura di gara pubblicata da Invitalia in qualità di centrale di committenza con funzioni di stazione appaltante per il Ministero dell'Interno, Prefettura Ottigi di Caltanissetta. Per il CPR che è stato chiuso di recente dopo alcuni disordini avvenuti all'interno che ne avevano provocato danni strutturali sono previsti stanziamenti per quasi 1.300.000 euro. Al termine degli interventi di ristrutturazione il centro sarà costituito da tre blocchi alloggiativi autonomi e da due blocchi distinti destinati ad attività comuni. Sarà installato inoltre un impianto di videosorveglianza e sarà realizzato l'impianto di illuminazione esterna e revisionato quello dello smaltimento delle acque meteoriche. Previsti anche interventi sulla rete idrica antincendio. Infine saranno rimosse le linee elettriche aeree per motivi di sicurezza con passaggio dei cavodotti sotto traccia nel terreno.